Vi ricordo ragazzi che se questa partita verrà messa su YouTube Si è tenuta su Twitch, sono in live ogni sera su Twitch Guardate in descrizione per trovare il link al mio canale Dalle otto e mezza al lunedì al venerdì e anche prima sabato la domenica Dov'è finito il compagno di Vosciente? Perché è entrato in partita e poi non era in partita? Se ne è pentito di entrare in partita? Vedremo qua, sentate altri misteri Seguendo l'avventura da Detective Vosciente solo su Restless Gaming C'era un amico Avevo scelto un amico Dov'è il mio amico amico? Il mio amico amico sei andato Bellissimo Sei ancora vivo tu lo so Merdo mano Perfetto 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 Qua è dove c'è va Qua ci sparavano ragazzi Quindi c'è già gente Ok li vedo Ok sono due team Ok quello gli sta arrivando alle spalle Prega questa ruona Deve spalle Ok 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 Morto di sanguato Morto di sanguato Ok Ma che cazzo di angelo della morte sono Bella Xera Angelo della morte Piacere Allora io devo essere con un teammate che non è mai entrato in gioco Quindi siamo diciamo due Poi ne ho uccisi Minchia 5 6 Prima ne avevo uccisi prima di questo scontro raga Oppure faccio prostituire volscente Con ricavato lo compro Un bel parruccone biondo Platino Prostetto e via E infatti Xera Hai trovato il segreto per la mia prostituzione What is this? Deve essere sempre fastidio come frate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma che cazzo Ragazzi Ragazzi io non c'ho munizioni qua Ragazzi mi servono munizioni E anche tante munizioni Un secondo ragazzi Ok ragazzi Abbiamo ammazzato mezzomondo di Hunter Potrebbero esserci altri codardi in mappa Prendiamo il sistema E andiamo a ammazzare sto mostro Il problema è che veramente ci sono poche line zone Dobbiamo ammazzare tizio Quella posizione non è buonissima per ammazzarlo Però dobbiamo farlo vola Ci potrebbero essere benissimo Ci sono tanti altri ritardatari in mappa Vediamo com'è questo ingresso No Ma che è così brutto Allora 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 Ho davvero pochi pochi colpi, ho pochi pochi colpi, pochi pochi colpi, pochi pochi colpi, ho pochi pochi colpi C'è nessuno? Allontanati, colpo cattivo lui, alla fine No ragazzi, scommettiamo, c'è qualcuno ancora vivo, non c'è nessuno ancora vivo Secondo me c'è solo il tuo compagno vivo Ma quale compagno? Se è disconnesso prima di inizio della partita Ross errore da parte sua Dov'è finito il compagno vivo scente? Perché è entrato in partita e poi non era in partita Se ne è pentito di entrare in partita? Vedremo questo e tanti altri misteri Seguendo l'avventura del detecativo scende solo su Restless Gaming Però basta che è tardi però, dai, 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 dai Ma mi fira anche un po' Ioli, tu dai, non ardei ragazzi Partita da campioni, come nostro solito Vi ricordo ragazzi che se questa partita verrà messa su YouTube Si è tenuta su Twitch Sono in live, mi sarà su Twitch Guardate in descrizione per trovare il link al mio canale Dalle otto e mezza al numero di alvenati E anche prima sabato la domenica GG Angelo della Morte E mi sa come una kill me l'ha sgamata Quello Che poi è stato l'ultimo che ha ammazzato Che poi è stato il penultimo Che poi c'è stato l'altro strunze Che è da lontano Vediamo i punti come sono andati Ho pure ammazzato un bel po' di mostri ciattolini 32 zombie quelli semplici 3 round Quei cani a lontano Hive sono ammazzate 4 Mi stanno sempre sopra le palle Quelle con le zanzare 5 Yarmor Che mi stanno ancora più sopra le palle delle Hive E Perché mi ha dato 3 hunter killed Non si capisce Se ne è persi un po' lungo la strada Come va a dare 3 hunter killed ragazzi Cioè Prendo quello di spalle E l'ho ammazzato L'amico E l'ho ammazzato L'altro tizio E l'ho ammazzato Quello dopo E l'ho ammazzato Che era quello che mi ha giocato il carro L'altro dopo l'ho ammazzato E quell'altro che mi ha sparato le spalle Da 6 Sono arrivati a 3 Boh Vado impazziti Ogni tanto va un po' in tilt Questo gioco Vi rendete conto